Benvenuti a TG Acea, l'appuntamento settimanale che vi tiene informati sulle attività e i progetti del gruppo. Secondo gli ultimi dati OIPE, 2,2 milioni di famiglie in Italia soffrono di povertà energetica. È questo il motivo per cui la transizione ecologica, oltre che essere sostenibile, deve essere anche equa. Il gruppo Acea, in occasione della terza edizione del Sustainability Day, che si è svolta il 26 novembre presso la Lanterna di Roma, ha voluto aprire un confronto costruttivo sul tema. Si sono rinnovati così gli impegni nel perseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 e del Green Deal Way, con lo studio realizzato da The European House Ambrosetti. In Italia solo il 31,9% dell'impresa ha investito in tecnologie e prodotti green. Occorre quindi uno sforzo maggiore da parte di tutti per salvare il futuro. La politica industriale del gruppo Acea, orientata ai criteri della Green and Circular Economy, ha avuto nel 2020 un impatto stimato sul PIL di 3,1 miliardi di euro di valore aggiunto, con investimenti pari a 907 milioni. Per raccontare l'impegno di Acea, sentiamo le parole di Giuseppe Gola, amministratore e delegato del gruppo. Dottor Gola, il significato di una giornata così importante per il gruppo? Siamo all'ennesima edizione del Sustainability Day che sta diventando e diventerà una tradizione che però non deve essere un ripetere sempre gli stessi concetti. Ogni anno stiamo portando molti concetti nuovi. Quest'anno abbiamo presentato questo lavoro che abbiamo realizzato insieme ad Ambrosetti per misurare qual è l'impatto di Acea sui territori in cui opera, ma da un punto di vista economico, da un punto di vista di occupazione. Abbiamo presentato dei dati nuovi che secondo me danno una lettura ancora più importante di qual è il ruolo di una multi utility sul territorio in cui opera. Sono 31 milioni le tonnellate di gas serra prodotte in Italia tra il 2008 e il 2019. Serve un'inversione di rotta. Il traguardo europeo al 2030 prevede una riduzione del 55%. Il rischio di un aumento delle temperature per il nostro paese è pari a una perdita di 1,2 trilioni di euro nei prossimi 50 anni. Decarbonizzazione, mobilità sostenibile, economia circolare e tutela delle risorse idriche saranno i driver per generare valore. Abbiamo intervistato sul tema Stefano Songini, responsabile Investor Relations and Sustainability Acea. Dottor Songini, il valore che produce il gruppo Acea in ambito di sostenibilità, ce ne vuole parlare? Sì, abbiamo presentato oggi tutta una serie di sfaccettature del valore che genera Acea per i territori. Chiaramente siamo un'azienda strutturalmente sostenibile perché operiamo nei business fondamentali per i nostri cittadini sui territori. Abbiamo voluto con Ambrosetti esplorare vari aspetti. Quello economico, che forse è quello più conosciuto, insieme a quello ambientale, quindi tutto quello che noi stiamo facendo per valorizzare le nostre attività con un beneficio per l'ambiente, quindi riducendo il nostro carbon footprint piuttosto che adottando sistemi di economia circolare. Il capitale sociale, quindi quello che noi facciamo per i nostri dipendenti, quello che facciamo per i nostri territori, per la città di Roma con il lab vaccinale, è fino al capitale cognitivo, quindi sostanzialmente investendo in conoscenza, in formazione e in innovazione, quindi supportando start-up innovative per aiutarci anche a ripensare il nostro business. Lo studio di Ambrosetti ha valutato anche gli impatti occupazionali e sociali del gruppo Acea. Il gruppo ha registrato la terza performance di crescita occupazionale tra le aziende industriali negli ultimi cinque anni. Lavorando a stretto contatto con il territorio, inoltre, le attività di Acea raggiungono un contributo occupazionale pari a 27 mila posti di lavoro equivalenti. Ecco il primo esito di una transizione equa e sostenibile. Ne abbiamo parlato con Gabriella Chiellino, presidente Comitato Etica e Sostenibilità Acea. Quali sono le strategie che caratterizzano il Comitato di Sostenibilità del gruppo che lei supervisiona? Allora, sicuramente le due parole che possiamo mettere insieme è proprio il successo sostenibile, che sono state codificate dal nuovo codice di governo per le aziende quotate. Il successo sostenibile vuol dire dare questo driver, questa guida alle scelte strategiche per creare valore di lungo periodo. È una grande responsabilità che noi stiamo affrontando ormai da quattro anni con un'attività di verifica e supervisione del piano di sostenibilità di Acea che è integrato al piano industriale, ma soprattutto con un forte engagement che va da tutti i dipendenti e collaboratori di Acea, che sono più di 8 mila in tutta Italia, quindi con tanta formazione che diventa anche iniziative come l'Innovation Garage, cioè premiare anche chi individua delle nuovi progetti di sostenibilità dentro il gruppo e anche con un engagement esterno verso i fornitori, verso i clienti che sono poi i nostri cittadini, quindi con campagne importanti, educative e formative. Poi è ovvio che un altro degli obiettivi che abbiamo noi nel Comitato, avendo anche il ruolo di diversity, è anche proprio il gender e la condizione femminile e quindi progetti oggi sul welfare per creare condizioni tali che permettano alle manager del gruppo o comunque a tutti i livelli lavorativi di poter integrare i propri obiettivi lavorativi con anche la vita privata. Questa è una grande sfida che rientra appunto nel nostro percorso di sostenibilità. Per questa edizione è tutto, arrivederci alla prossima puntata del TG Acea.